Il Giro d'Italia torna all'Aquila il 17 maggio con partenza da Piazza Duomo. Il Comune, nonostante tutto, è nel pieno dell'organizzazione. Per la terza volta negli ultimi quattro anni, l'allegria del Giro fa tappa all'Aquila e nelle aree interne d'Abruzzo, in piena pandemia e sperando di migliorare la situazione epidemiologica per allora, rendendo il passaggio della Carovana Rosa una festa, seppur con restrizioni, si lavora tutto tondo per non farsi trovare impreparati. L'arrivo del Giro, così come hanno dichiarato anche altri amministratori, darà sicuramente un sostegno all'economia e a tante attività, una boccata d'ossigeno, considerando l'indotto che la maestosa organizzazione si porta dietro. Da quest'anno la partenza sarà da Piazza Duomo, quindi dal cuore vero della città e sarà utile non soltanto perché il Giro d'Italia è una grande festa nazionalpopolare, trasversale alle generazioni, quindi vedremo ragazzini piccolissimi con magari i loro nonni, ma sarà anche inutile perché è anche un grande volano economico di promozione turistica e nel momento difficile come quello che stanno vivendo le attività economiche è una manna che arriva e che salutiamo e che saluteremo con grande gioia, con grande partecipazione, sempre nel rispetto delle regole. Grazie. Grazie.